Lei era consenziente, si sarebbe difeso così davanti al GIP del Tribunale di Trapani, l'uomo accusato di violenza sessuale. Blizzantidroga, Mazzara, sgominate due bande che gestivano lo spaccio di sostanze stupefacenti. Trapani, agenti penitenziari in agitazione, turni massacranti, la UIL disattesi gli accordi sindacali. Ben ritrovati davanti al GIP del Tribunale di Trapani, Massimo Corleo, l'uomo accusato di violenza sessuale ha respinto ogni addebito. Lei ha detto era consenziente il servizio. Sì, io e Natalia abbiamo avuto un rapporto sessuale, lei era consenziente, anche in passato abbiamo avuto incontri intimi. Io e Natalia ci conoscevamo da diversi mesi. Lo avrebbe rivelato l'uomo di 37 anni accusato di violenza sessuale e di lesioni personali al GIP del Tribunale di Trapani, Massimo Corleo, durante il suo interrogatorio di garanzia. L'indagato, anche lui, come la vittima senza fissa dimora e con piccoli precedenti alle spalle, ha risposto a tutte le domande del giudice, negando però di aver violentato la donna ucraina di 44 anni. Non c'è stata alcuna violenza. Il rapporto è avvenuto con le stesse dinamiche di quelle precedenti. Quando, visto che perdeva sangue, ci siamo fermati e l'ho aiutata a rivestirsi. Le ho detto, Natalia, stai sanguinando, e lei non diceva niente. Dichiarazioni, quelle rese dal 37enne, che coinciderebbero in larga parte con quelle fornite ad investigatori incoerenti da Natalia. La donna, infatti, avrebbe confermato il rapporto sessuale, aggiungendo però, mi ha fatto una richiesta che io non ho voluto secondare e mi ha presa con la forza. Circostanza questa che l'uomo nega. E lei, chimusi sul collo? Non ricordo di averla ferrata per il collo. Se poi è successo, è stato durante il rapporto, ma non era mia intenzione farle del male. Quella notte, secondo il suo racconto, si sarebbe incontrato con Natalia in un locale del centro storico. Io ero con amici e lei si è avvicinata, iniziando a bere con noi. I due poi si sono recati alle mura di Tramontana, come dimostrano le immagini estrapolate dalle telecamere del sistema di video sorveglianza. Qui si sarebbero seduti su una panchina, vicino a quella rinvenuta sporca di sangue, continuando a bere. Poi si sono alzati. Scesa la scalinata, Natalia e il 37enne avrebbero consumato un rapporto sessuale sulla strada sottostante. Rapporto interrotto sempre secondo la sua versione. Quando la donna ha iniziato a perdere sangue, lo ha aiutato a rivestirsi e siamo ritornati sulle mura. L'Ucraina si è seduta sulla panchina. Mi ha detto che aveva freddo, io l'ho abbracciata. Siccome continuavo a sanguinare, mi sono affacciato alle mura, ho notato un ragazzo che lavora al panificio, lì nei pressi, e gli ho chiesto di chiamare un'ambulanza. Quando sono giunti i sanitari del 118, l'uomo era ancora lì. I vestiti che indossava quella notte sono stati sequestrati dalla polizia. Non erano sporchi di sangue. In tasca è stato rinvenuto un coltellino. Il GIP ha convalidato il fermo. Il 37enne, ora è rinchiuso in una sezione speciale del Pietro Cerulli, dove continua a dichiararsi estraneo nei fatti che gli vengono contestati. E nelle immagini acquisite dalla polizia c'è un buco di sei minuti. Un buco di sei minuti nei filmati acquisiti dalla polizia. Le telecamere riprendono Natalia e il suo presunto aggressore. Poi i due spariscono per riapparire alle mura di Tramontana dopo 360 secondi. In quel breve arco di tempo, la donna ucraina sarebbe stata violentata secondo quanto lei stessa ha denunciato alla polizia dopo essere stata accompagnata in ospedale. Lo stupro non è avvenuto in quella panchina rinvenuta sporca di sangue. La violenza infatti non è stata ripresa dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, teatro dell'aggressione e la strada sottostante le mura dove Natalia e l'uomo, ora in carcere, si sarebbero appartati per consumare un rapporto sessuale. Lei era consensiente, avrebbe detto l'indagato al GIP del Tribunale di Trapani, Massimo Corleo, durante l'interrogatorio di garanzia. Natalia invece avrebbe raccontato di una richiesta da lei non assecondata, un diniego, che sarebbe sfociato in violenza. Circostanza questa che l'uomo nega con forza. Quando ho visto che Natalia perdeva sangue, sono stato io a chiedere a un ragazzo di chiamare un'ambulanza. Accusato di violenza sessuale e di lesioni personali, il 37enne con piccoli precedenti alle spalle era inchiuso al Pietro Cerulli. Quando l'Ucraina e l'indagato riappaiono alle mura, la donna insanguinata si siede su quella panchina sequestrata dalla polizia, sporcandola di sostanza ematica. Poi l'arrivo dei sanitari del 118 e la corsa al Sant'Antonio Abbate. La Guardia di Finanza ha sgominato due bande che gestivano lo spaccio di sostanze stupefacenti a Mazzara del Vallo. A capo una donna. La Guardia di Finanza di Palermo ha notificato 21 misure cautelari, personali e reali ad altrettante persone. 13 di loro non potranno dimorare nelle province di Palermo, Trapani e Agrigento. Le altre 8 invece hanno l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. Gli indagati sono indiziate a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e autoriciclaggio. Secondo gli investigatori del GICO si tratterebbe di due gruppi criminali che avrebbero gestito due distinte piazze di spaccio attiva a Mazzara del Vallo nel quartiere di Mazzara 2. Una capillare rete di distribuzione di crack, marijuana, hashish e cocaina. Dalle intercettazioni sono emerse le classiche indicazioni per dissimulare la compravendita di partite di droga, indicate come ricci, pesci, magliette bianche o scure in relazione alle differenti tipologie di droghe trattate. Uno dei capi dei sodalizi criminali avrebbe reinvestito parte del denaro frutto dell'attività illecita nell'acquisto di un motopeschereccio che fa parte dei beni posti sotto sequestro. Sette dei destinatari delle misure cautelari infine risultano percepire direttamente o tramite il proprio nucleo familiare il reddito di cittadinanza, circostanza segnalata all'Inps che provvederà nei prossimi giorni alla sospensione del beneficio. Le indagini sono state coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo. Ancora cronaca, un panetto di hashish è stato rinvenuto sulla spiaggia di Tre Fontane a Campobello di Mazzara. I carabinieri della stazione di Campobello di Mazzara, avvisati da un cittadino che ha notato lo strano involucro sulla battigia, si sono recati sulla spiaggia di Tre Fontane ed hanno accertato, come del resto avvenuta anche in passato, che si trattava di droga. Il panetto ovviamente è stato posto sotto sequestro a carico di ignoti e sarà poi versato presso l'ufficio Corpi di Reato. Il rinvenimento di droga sulla spiaggia in mare non è infrequente. Già nel febbraio 2021 i carabinieri avevano rinvenuto su quella stessa spiaggia un pacco di droga di ben 36 chili. Altri ritrovamenti sono stati registrati nel corso di tutto il 2021. In aprile a Triscina fu trovato un involucro in cellofan parzialmente deteriorato contenente 5 panetti di hashish pari a 750 grammi. Di solito i panetti sono provvisti di etichette cartacee proprio per identificare negli ambienti criminali le diverse partite ai fornitori. Ricordiamo ancora nella sola provincia di Trapani i pacchi ritrovati da carabinieri del comando provinciale nel mese di gennaio a Pizzolungo e sulla spiaggia nei pressi dell'aeroporto di Birgi e poi quelli trovati nel mese di marzo a Petrosino. Ci sono poi pacchi spiaggiati nei pressi di Sciacca e perfino sulle coste palermitane. Una delle ipotesi formulate dagli investigatori è che lasciare la droga in mare concordando tempi e coordinate di consegna possa essere un metodo dei trafficanti e che i pacchi spiaggiati siano frutto di dispersione accidentale di carichi non ritirati che talvolta il mare porta arriva. Due arresti a Petrosino ad eseguirli i carabinieri. Nel corso dell'operazione Trinacrea che vede impegnati anche i carabinieri della compagnia di intervento operativo della legione Sicilia, i militari della compagnia di Marsale e del comando provinciale hanno operato una serie di controlli a Petrosino impegnando su strada più di 40 uomini. Un controllo straordinario determinato dal crescente allarme sociale generato dall'aumento di reati contro il patrimonio registrato nel corso degli ultimi mesi. In carcere è finito un pluri pregiudicato marsalese di 40 anni per i suoi atteggiamenti di prepotenza e prevaricazione molto temuto dalla popolazione di Petrosino. Da dieci giorni l'uomo era ricercato perché sul suo capo pendeva un ordine di carcerazione del Tribunale di Marsale. I carabinieri lo hanno arrestato presso l'abitazione di un parente e condotto nel carcere Pietro Ceruli di Trapani. Un'altra persona, un 32enne, è stato arrestato su ordine dell'ufficio di sorveglianza di Trapani poiché deve scontare 5 anni di reclusione. Per reati contro il patrimonio nel corso dei controlli sono state denunciate altre 6 persone, due pregiudicati, uno di 28 anni e l'altro di 42 anni, sono stati fermati con addosso coltelli a serramanico di genere vietato. Il 42enne era in possesso anche di Ashish. Un altro pregiudicato marasalese di 36 anni è stato denunciato per ricettazione di un'auto, risultata rubata. Infine due minorenni sono stati denunciati per non essersi fermati all'alte dei carabinieri a un 21enne perché si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti relativi all'assunzione di droga. Avrebbe abusato delle sue pazienti condannato un medico dell'ospedale di Mazzara del Vallo. Il gruppo Annalisa Amato ha condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione il primario del reparto di radiologia dell'ospedale di Mazzara del Vallo, Roberto Caravaglios, accusato di aver abusato di 3 pazienti. Il medico ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. Il giudice gli ha inoltre inflito 5 anni di interdizione dai pubblici uffici e uno dalla professione medica. Caravaglios, per il quale il PM aveva chiesto 5 anni e 8 mesi, avrebbe commesso gli abusi su tre donne che tra marzo 2016 e giugno 2020 si erano recate all'ospedale di Mazzara del Vallo per alcuni accertamenti diagnostici. L'indagine, condotta dagli agenti della squadra mobile di Trapani, è scattata a seguito della denuncia presentata da una delle tre vittime. Secondo l'accusa, il medico avrebbe allungato le mani sulle parti intime delle vittime. Le tre donne, costituitesi in parte civile, erano già state ascoltate in sede di incidente probatorio dal giudice per le indagini preliminari. Il primario dovrà pagare 8 mila euro di risarcimento danni, più le spese legali. In stato di agitazione a Trapani gli agenti della Polizia Penitenziaria. Vediamo il perché. Turni massacranti per gli agenti di Polizia Penitenziaria nel servizio a Trapani, quasi 12 ore consecutive. La denuncia è della Wilpa Penitenziari. Violare il contratto e gli accordi sindacali non scandalizza nessuno. I poliziotti però non ci stanno. Non arretreremo di un millimetro nella lotta ormai quotidiana di tutela dei lavoratori della Polizia Penitenziaria. E non saranno le meline dell'amministrazione. A stancarci, Chico Veneziano, segretario regionale del sindacato e categorico. Non subiremo passivamente l'imposizione che da oltre dieci giorni avviene nei confronti degli agenti che devono espletare servizi di quasi 12 ore consecutive per piantonare un detenuto all'ospedale di Marsala. È semplicemente scandaloso rincare la dose il leader della Wil di settore che, quando si tratta di tutelare i diritti dei detenuti, l'amministrazione si affanna affinché questo non accada. Ma quando si tratta di evitare la violazione del contratto e degli altri accordi sindacali, non fa nulla per evitare che ciò accada. Le norme di legge sono chiare, insiste Veneziano. Chi espletta servizio negli ospedali deve lavorare su quattro quadranti e non su tre, come sta avvenendo per il personale di Polizia Penitenziaria di Trapani, con l'aggravante che la distanza tra il carcere di Trapani e l'ospedale di Marsala allunga di più il turno lavorativo, esponendo i colleghi a forte stress operativi con l'ovvio abbassamento dei livelli di sicurezza. Infine, appare davvero stramba, conclude il sindacalista, la decisione di far fare il tampone rapido all'arrivo al pronto soccorso di Marsala, quando sarebbe più logico farlo fare alla partenza dal carcere, così, in caso di positività, il cambio dell'unità risultata positiva, sarebbe sul posto. Restiamo in tema perché Chicco Veneziano è anche intervenuto sulla polemica scoppiata in seguito alle dichiarazioni rilasciate dal magistrato di sorveglianza di Agrigento. Siamo parzialmente soddisfatti come Will e Pa Polizia Penitenziaria alla rettifica per scritto messa dal magistrato di sorveglianza Walter Carlisi rispetto alle parole che ha pronunciato in un convegno dove ha descritto la Polizia Penitenziaria come una banda con la divisa blu. Certo, avremmo gradito che in quella lettera inviata al Ministro e al Capo Dapp ci sarebbe stata anche messa la Polizia Penitenziaria come indirizzo primario perché è stata offesa la Polizia Penitenziaria. Comunque, detto questo, alla fine ha voluto dire una cosa che probabilmente speriamo non ha pensato e speriamo anche che quello che ha scritto sia realmente quello che pensa. Ma detto questo siamo rammaricati, per non dire altro, dalle continue parole di solidarietà espresse dai due sottosegretari alla giustizia ostellari della Lega e del Mastro di Fratelli d'Italia che purtroppo dalle parole di solidarietà non passano ai fatti. Infatti l'articolo 154 della legge finanziaria prevede nel triennio 2023-2025 un risparmio di spesa di 35 milioni in capo all'amministrazione penitenziaria e ai servizi di Polizia Penitenziaria che significa che se oggi il personale occupa quattro posti di servizio di qua a tre anni lui non vorrebbe occupare 10. Altro che solidarietà, altro che attenzioni nei confronti della Polizia Penitenziaria, solo tagli, solo chiacchiere e parole dette in campagna elettorale che poi purtroppo da quello che leggiamo nelle carte della finanziaria non trovano realmente un'attenzione sempre decantata e reclamata. Domani a Selenunte ci sarà un convegno su archeologia pubblica. Cosa si intende per archeologia pubblica? In che modo questa può guardare al futuro impegnando la comunità? Attorno a questa disciplina si riuniranno esperti, giornalisti e operatori del settore. Domani a partire dalle 15 al Baglio Florio nel Parco archeologico di Selenunte si discuterà infatti di percorsi culturali tra passato e futuro, una archeologia per tutti, archeologia pubblica a Selenunte nel corso di un convegno promosso e organizzato dalla Rotta dei Fenici, itinerario culturale del Consiglio d'Europa per promuovere una riflessione attuale sul ruolo dell'archeologia nella percezione e costruzione dell'intentità locale. Il tema prende spunto dalle iniziative avviate dal Parco che mettono al centro la comunità locale e il suo rapporto con il patrimonio culturale e paesaggistico. Domenica poi giornata di apertura gratuita del Parco che vede in programma visite guidate e tematiche. Tornerà anche la camminata Selenunte nata 40 anni fa su iniziativa di Angela Calabrese Liotta con gli studenti del liceo locale nel Parco che stava per nascere. Oggi molti degli studenti di allora sono docenti o genitori, saranno loro a passare idealmente il testimone ai cittadini di domani. Ora lo sporto, buon proseguo.